E' arrivato il momento di entrare in collegamento con i nostri ospiti di oggi e in collegamento con noi in questo momento c'è Davide Fitz, founder del progetto Smart Walking. Ciao Davide, buongiorno! Ciao, buongiorno a tutti voi! Ti vediamo su una spiaggia, anche se il clima alle tue spalle, insomma, non vediamo un cielo particolarmente favorevole per prendere il sole, però neanche piove. Dove ti trovi? Allora, io in questo momento sono sul lungomare di Minturno e sto partendo per la mia prima tappa della Francigena del Sud. Quest'anno il progetto si chiama Smart Walking Cost to Cost, quindi io ho già fatto dei cammini cost to cost nel progetto 2023 e da oggi inizierò appunto la via Francigena del Sud che mi porterà dal mare Tirreno, alle mie spalle come vedete, al mare Adriatico. Io infatti arriverò a Monte Sant'Angelo in Puglia. Molto bene, noi ti aspettiamo a braccia aperte, però nel frattempo raccontaci del tuo progetto, che cos'è Smart Walking? Allora, Smart Walking diciamo che è un progetto personale, una ricerca, diciamo, di work-life balance, quindi di bilanciamento tra quella che è la vita privata e le proprie passioni e il lavoro. Praticamente io sono partito l'anno scorso e da un anno a questa parte io faccio cammini in giro per l'Italia e la mia giornata tipo qual è? Io praticamente mi alzo la mattina, faccio una tappa di un cammino, mediamente cammino 4-5 ore per circa 20 km e poi pomeriggio tiro fuori dallo zaino il mio portatile e faccio il mio lavoro di commercial sales. Io lavoro per due aziende e quindi continuo a lavorare per queste aziende e lo faccio da nomade digitale, ma proprio nomade nel vero senso della parola, perché ogni giorno praticamente lavoro da un ufficio diverso. Ecco, senza dubbio la dimensione del cammino che ti regala tanti scenari e tante emozioni è anche una dimensione che richiede il suo impegno, un po' di spirito di sacrificio, di adattamento. Come sta andando a te? Sì, allora io ho deciso di fare questo progetto Smart Walking perché chiaramente ero già diciamo molto affascinato dal mondo dei cammini. Io avevo già fatto in passato quattro cammini di Santiago e altri cammini in Italia, quindi comunque conoscevo quelli che erano diciamo le peculiarità, le caratteristiche di un cammino che vuol dire essenzialità, vuol dire fatica, vuol dire vivere con tutto quello che ti serve nello zaino, imparare a essere minimalisti. Però è una vita che mi piace perché mi permette di stare a contatto con la natura e soprattutto anche di incontrare tantissime persone perché a piedi passando dei borghi si fanno tantissimi incontri. Bene Davide, la tua esperienza, il tuo racconto è molto bello e ci invita tante volte a lasciare un attimino quella che è la nostra comfort zone, che sia l'ambiente di casa, l'ambiente dell'ufficio per uscire fuori, andare nel mondo, incontrare le persone perché ci dimostri, la tua storia ci dimostra che si può continuare a lavorare pur mettendosi in cammino anche semplicemente con uno zaino in spalla. Quali sono, se ti dovessi chiedere di cercare nel bagaglio della tua memoria, tra i tanti ricordi che sicuramente, le tante immagini che sicuramente hai catturato in questi anni, un episodio in particolare che è diventato emblematico per te? Ma allora, diciamo che ci sarebbero tanti episodi da raccontare dal punto di vista umano e degli incontri perché poi le persone sono molto meglio di quello che si crede e gli incontri fatti a piedi permettono appunto di instaurare delle relazioni umane molto profonde. Se devo mettere un ricordo, un episodio fra tutti che mi piace raccontare, diciamo che io l'anno scorso ho inaugurato il cammino di San Pietro e Remita in Abruzzo e diciamo che è stato un episodio molto particolare dal punto di vista umano perché praticamente io sono andato a inaugurare il cammino che si è creato da una persona che è venuta a mancare e la moglie di questa persona mi è venuta a incontro e mi ha detto Davide a te ti manda Enzo, che è il nome di questa persona che è venuta a mancare dal cielo perché se non avessimo letto del tuo progetto noi non avremmo mai fatto partire il cammino e tu sembravi proprio mandato da lui. Quindi ecco, questo dal punto di vista umano è stato forse l'incontro più profondo e che mi ha dato di più. Bellissima testimonianza, bellissima storia. In Italia ci sono tanti cammini come ci dicevi tu e probabilmente molti di noi si sono avvicinati o riavvicinati alla dimensione della natura e del cammino in natura proprio durante la pandemia. Che consiglio ti senti di dare a quanti ancora ecco non si decidono ad allacciare scarpe da trekking per immergersi un po' nella natura? Eh, bisogna come dicevi tu prima provare a togliersi dalla propria comfort zone e mettersi in gioco. Io credo che l'uomo è diventato tale quando si è messo su due piedi, quindi si è alzato in posizione retta ed ha cominciato a camminare. Questo ce lo siamo totalmente dimenticati per colpa dei divani, della tv e delle macchine. Quindi bisognerebbe tornare alla dimensione umana che è quella dei due piedi, di stare in piedi e di camminare. Credo che il primo passo in tutte le cose è sempre il più difficile, ma poi camminare diventa una droga perché insita in quella che è la nostra caratteristica. E quindi consiglio a tutti di provare perché cammini ce ne è tanti, ci sono facili, difficili, ma è possibile iniziare con un cammino facile e provare a mettersi in gioco. Mentre io e te stiamo chiacchierando e i nostri telespettatori ci stanno ascoltando sicuramente con interesse, stanno scorrendo in sovrimpressione sul nostro schermo anche le immagini del tuo sito web, dove, correggimi se sbaglio, ci dai anche conto del cammino che stai facendo e di quelli che hai già fatto. Sì, io diciamo che ho deciso di comunicare principalmente su tre social. LinkedIn, perché comunque il mio progetto riguarda anche la parte lavoro, di normale digitale, in parte smart working e comunque lavoro da remoto. Instagram, perché mi permette puntualmente ogni giorno di comunicare attraverso le immagini. E poi ho un blog, smartworking.eu, in cui invece poi faccio dei resoconti dei vari cammini e delle esperienze che ho fatto, che può essere anche utile come spunto. Grazie Davide, in apertura tu facevi riferimento al giusto bilanciamento che dovrebbe esserci tra il lavoro, che è importante, prezioso, fondamentale per ogni essere umano, ma anche il nostro tempo libero, la nostra vita. E quindi il tuo progetto, il tuo stile di vita, il tuo cammino ci insegna che poi nella vita bisogna dare il giusto peso, la giusta importanza a tutte le cose. Questa chiacchierata sta giungendo al termine, per cui volevo chiederti una conclusione a beneficio di chi ci sta vedendo e ascoltando. Allora, come ti dicevo, quando si va in giro con uno zaino sulle spalle deve essere molto leggero perché te lo porti dietro per qualche chilometro. L'insegnamento che dà è allontanarsi dalle cose materiali, dal pensiero che le cose materiali ci possano rendere felici. Io da un anno giro con due calzini, due maglie, due mutande, una felpa, però probabilmente sto facendo il periodo di vita più bello di sempre perché ho scoperto altre cose, l'impotenza dei contatti umani, dello stare della natura. Quindi ecco, dovremmo un po' cercare di capire che non sono le cose materiali che ci fanno felici. Forse questa è la cosa più importante. Ripeto, io poi ovviamente ho un pc dietro, ho un portatile, lavoro, quindi non è che ho preso un anno sabbatico o sono fuori dal mondo. Io comunque mi connetto e continuo a lavorare. Quindi ecco, forse il provare a distaccarsi dalle cose materiali, avere meno e avere di più dal punto di vista delle relazioni umane. Grazie Davide, noi continueremo a seguirti e invitiamo tutti i nostri telespettatori a fare altrettanto in più, ecco, sapendo che stai arrivando sul nostro territorio, sul Gargano, Monte Sant'Angelo in particolare, speriamo anche di poterti incontrare di persona e perché no, se siamo fortunati ad ospitarti dal vivo anche nei nostri studi. Per il momento ti auguriamo un buon proseguimento di giornata e buon cammino. Grazie mille, saluti da mi in turno. Allora, arrivederci, a presto, grazie ancora Davide. Davide Fitz, Smart Walking, è veramente un progetto molto interessante che vi consigliamo di seguire sul sito smartwalking.eu e sui canali social di Davide e del suo progetto. Bene, noi ci fermiamo soltanto per qualche istante e poi ritorniamo in diretta con la nostra seconda ospite.